Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Ben trovati, nuovo appuntamento con i programmi dell'accesso, oggi spazio dedicato al Corico del Piemonte, il Comitato Regionale per le Comunicazioni. Prima due parole proprio sull'attività del Corico con il Presidente Alessandro De Cillis. Buongiorno, tante attività ma ce n'è una in particolare. Sì, il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte è un organo dell'autorità garante per le comunicazioni e una delle attività principali è proprio la gestione delle conciliazioni tra utenti e compagnie di comunicazione che possono essere telefonia, PTV o traffico dati. Sicuramente questa è l'attività principale, abbiamo restituito agli utenti piemontesi nel corso del 2017 2.200.000 euro e abbiamo gestito oltre 6.000 tentativi di conciliazione con una percentuale risolutiva superiore all'80%, quindi un lavoro eccezionale. Fino ad oggi come funzionava la procedura? Fino ad oggi l'utente veniva presso il Coricom oppure inviava la documentazione via mail, via PEC o via raccomandato, lo portava manualmente e poi l'utente veniva ricontattato dal Coricom per circa una distanza di una settimana per poi incontrare nell'arco di 30 giorni più o meno la compagnia di comunicazione. E quindi il tempo di risoluzione medio era di circa 30-40 giorni. Adesso invece c'è una novità, Gianluca Nargiso, Vicepresidente, qual è questa novità? Questa novità si chiama concilia web. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni è partita dalla constatazione che ormai quasi tutti hanno il cellulare in mano e se ne servono per lo svolgimento delle operazioni più disparate nella vita quotidiana. E quindi al fine di agevolare il servizio e quegli utenti, i tanti utenti che ormai compiono queste operazioni attraverso il telefono, hanno stabilito, si è stabilito che dal 23 di luglio la presentazione della domanda di conciliazione avverrà attraverso il canale telematico. Questo accorcerà anche i tempi? Beh, di sicuro questo migliorerà i processi organizzativi, gestionali, delle controverse e quindi sicuramente porterà vantaggio agli utenti in termini di miglioramento del servizio. Commissario Vittorio Del Monte, dunque procedure più veloci, anche più semplici. Come saranno concretamente? Sì, questa nuova procedura il cui nome è ConciliaWeb è una procedura che è stata ideata, immaginata, programmata e studiata per consentire agli utenti di poter accedere al servizio di conciliazione utilizzando quello che è lo strumento ormai più comune, il telefonino e anche tutti gli altri strumenti di carattere telematico e informatico, computer e pc e tablet. Concretamente quindi l'utente potrà rivolgere l'istanza direttamente attraverso questi strumenti, quindi con un'immediatezza e una velocità molto superiori a quelli che attualmente sono attuati e applicati, nella prospettiva di giungere a una completa digitalizzazione dell'intera procedura di conciliazione e quindi dell'intero procedimento amministrativo che viene gestito da ogni corecom. Questo tipo di procedura è stata voluta fortemente dall'agicom anche se comunque le attuali procedure di conciliazione soprattutto nella regione Piemonte e grazie a merito del corecom Piemonte avevano già dei tempi di risoluzione molto veloci, però l'obiettivo era proprio quello di continuare a migliorare sempre al servizio dell'utente. Chi non è in grado appunto di usare il computer, magari non tutti hanno questa facilità, che cosa garantite? Il corecom Piemonte si è posto questo problema e nella fase di avvio di questa procedura che partirà il 23 di luglio si cercherà e anzi si è già immaginato di poter agevolare gli utenti che hanno meno dimestichezza, meno facilità di utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica, con un punto informativo, comunque con un punto di assistenza che consentirà loro di inoltrare le istanze che appunto dal 23 di luglio potranno essere presentate solo ed esclusivamente con questa procedura che ripeto il cui nome si chiama concilia web. Un'ultima domanda, Alessandro De Cilis, che cosa vi aspettate da questo passaggio? Beh, innanzitutto uno sostenimento della procedura, noi teniamo presente che le pubbliche amministrazioni devono ridurre tutte le attività fondamentalmente cartacee, quindi sarà un servizio in più, un tentativo più veloce, più dinamico e speriamo di raggiungere il risultato anche percentualmente più efficace. Grazie, è tutto, al prossimo appuntamento. Oggi il sistema sportivo torinese è qui per presentare Just the Women I Am, un evento voluto cinque anni fa dal presidente Riccardo Delicio per far scendere lo sport in campo a sostegno delle tematiche di genere, della prevenzione e della sensibilizzazione. Lo sport e i valori che lo sport è in grado di comunicare hanno deciso di invitare e portare in piazza tutte le persone che hanno il piacere e la voglia di sostenere il mondo universitario per un evento che ha come principale finalità la raccolta fondi per la ricerca universitaria sul cancro. In questo evento si racchiudono tantissimi aspetti, non solo quello della ricerca ma come appena accennato la tematica di genere. Oggi si parla tanto del tema della violenza sulle donne, riteniamo che lo sport e tutti noi abbiamo il dovere e l'obbligo morale di dare un segnale importante. Così oggi tanti sportivi hanno deciso di sostenere e di partecipare non per lei ma con lei. La parità di genere riguarda tutti Promuovere le quali opportunità In famiglia, nel lavoro, nell'istruzione Nello sport e nella politica Condannare ogni forma di discriminazione e violenza Verbale e fisica E' una missione anche nostra Perché gli stereotipi e i pregiudizi Pesso inconsapevoli Limitano la libertà di tutti Donne e uomini Perciò io mi schiero E invito tutti a fare lo stesso ogni giorno Prendiamoci la responsabilità e il merito Di essere un esempio Ho scelto di essere ambasciatore di Just the woman I am Di correre al suo fianco Non per lei Ma con lei Perché parità di genere Significa libertà per tutti Perché se corro con lei E anche per me 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 E anche per me Appuntamento Per domenica 3 marzo 2019 Per sostenere La ricerca universitaria sul cancro Per scegliere Di partecipare a questo evento E quindi Di fare la camminata O la corsa di 5 km A sostegno Della ricerca universitaria sul cancro Tutte le informazioni Le potrete trovare sul sito www.torinodonna.it E vi aspettiamo per iscrivervi e sostenere in tantissimi questa manifestazione Le iscrizioni saranno aperte a partire da fine novembre Quindi l'importante sarà scegliere di partecipare L'importante sarà scegliere di essere presenti in questa giornata Per la prevenzione a sostegno della ricerca E per combattere la discriminazione di genere Buongiorno Sono Zampieri Demetrio Faccio parte dell'associazione Amici della Casa dei Pini Di San Maurizio Canavese E volevo appunto darvi una spiegazione Su quello che è la nostra associazione Opera all'interno del territorio Che è radicata all'interno della gestione Di San Maurizio Canavese Il nostro lavoro è rivolto principalmente All'assistenza diretta con gli anziani E anche alla possibilità di poter intervenire In varie situazioni anche di bisogno all'interno della struttura Siamo nati nel 2005 E realizziamo questi progetti Per migliorare la qualità di vita Della struttura e dei residenti In particolare proprio la Casa dei Pini Che fa parte, ripeto, del consorzio CIS di Cirie Che è un aggregato di comuni Che appunto si occupano delle case di riposo Siamo molto fieri di poter essere parte di questa struttura Perché nel nostro intento è quello di poter sempre Guardare principalmente i bisogni dei nostri residenti Bisogni che si tramutano sia nella presenza dei nostri colleghi Anche dell'associazione che si occupano direttamente con gli anziani In modo classico Oppure anche con un intervento, ripeto, diretto All'interno della struttura Come abbiamo potuto realizzare queste cose? Grazie a alcune persone che hanno dato il loro contributo economico O anche tramite nostre iniziative Che ci occupiamo appunto di fare Per poter raccogliere i fondi Ci tengo a ribadire che questi fondi Sono principalmente, esclusivamente usati, ripeto, nella struttura Che cosa abbiamo fatto in questi anni? Moltissime cose Partendo dall'esterno Abbiamo riqualificato tutta l'area verde Che c'è all'esterno della struttura Che è stato realizzato alcuni anni fa Con un'attenso struttura Che serve per raccogliere gli anziani In un momento di festa Di un momento di, diciamo, anche di riposo Per poter uscire con le relative carrozzine Ed è stato chiamato il giardino delle chiacchere Attualmente appunto utilizzabile Come sensoriale È un orticello progettato Per un'interazione per i bambini delle scuole di San Maurizio I quali vengono a visitare gli anziani E stanno insieme a loro all'interno del giardino Poi abbiamo anche progettato Eventualmente altre importanti iniziative Che potevano diventare interessanti Riguardo l'Alzheimer Facendo appunto anche intervenire I nostri appunto associati Per poter assistere queste persone Abbiamo poi anche fatto diversi interventi All'interno della struttura Non vorrei dimenticare Il salone ristorante La sala polivalente E tutte queste strutture Con le quali non abbiamo mai La nostra, diciamo, ente sociale Non avrebbe mai potuto intervenire Per questioni ovviamente finanziarie Quindi la nostra gamba di sostegno È stata determinante per riqualificare il tutto Altri progetti importanti Direi che sono stati fatti anche ultimamente Con una possibilità di comprare un defibrillatore Tramite una lotteria E noi ogni anno facciamo a questo proposito Una grande festa Che appunto viene organizzata Con tutti gli anziani e i parenti Per avere una Diciamo un miglior comfort Un miglior conoscenza Lo spreco alimentare è qualcosa che ci indigna E davvero Ciascuno può fare la sua parte E per farla bisogna capire dove si spreca E perché Quando parliamo di noi Del cittadino Le nostre scelte Le nostre abitudini di acquisto E di consumo Sono davvero importanti Per cambiare prospettiva Quando andate al supermercato A comprare gli alimenti Quindi a fare la spesa Createvi prima una lista a casa Anche noi qui al ristorante lo facciamo Io che sono allo chef E dico ai fornitori Le giuste quantità che mi servono Per servire quel top numero di persone Per far sì che non avvenga poi Uno spreco eccessivo al ristorante O a casa Non andate a buttare i prodotti Che poi non cucinerete Cuciniamo Anzi Impariamo a cucinare Le giuste quantità di cibo necessarie Come fare? Qui ad esempio al ristorante La pasta viene dosata per singola persona Quindi i ragazzi Grazie all'uso della bilancia Pesano 80 grammi di pasta secca Per dose Per non sprecare la pasta Magari in eccesso Che poi viene cotta per una sola persona Quando arriva la comanda Una carbonara Spaghetto alla carbonara Io so già che questo È una porzione Quindi la mia porzione È a persone Quindi non avrò spreco Ad esempio Non conosciamo la differenza Tra data di scadenza E preferibilmente entro Non tutti i prodotti scadono Ci sono dei prodotti Che hanno la data di scadenza Con un giorno Un mese Un anno Che non può essere superato Pensiamo ai prodotti freschissimi Quelli che teniamo nel nostro frigorifero E poi ci sono tantissimi altri prodotti alimentari Che non scadono Come vedete Mozzarella Scadenza 21-12-2017 Quindi consumare Entro Differenza con la pasta C'è scritto Consumare Preferibilmente Entro il I biscotti La pasta Lo zucchero Prodotti in scatola Possono essere consumati Anche a casa nostra Diverso tempo dopo Per quel termine Perché quel termine Indica che il prodotto Conserva le sue caratteristiche migliori Per le quali viene venduto Ma possono essere consumati Diverso tempo dopo La posizione del cibo All'interno del frigorifero È fondamentale Perché se li mettiamo I prodotti Nella posizione sbagliata Rischiamo che quei prodotti Durino di meno E allo stesso modo Le condizioni di conservazione Insomma Se chiudiamo male la confezione Ecco Quel prodotto È destinato a durare di meno E diventare spreco A casa avendo un solo frigo Immagino Vanno usati contenitori ermetici Con la data E la descrizione Dell'alimento Mettendo Primo contenitore Carne e pesce sotto Uova Formaggi E l'ultimo ripiano In alto del frigo Mettiamo un contenitore ermetico Con dentro frutta E verdura Oppure pensiamo Alle tantissime ricette Del giorno dopo Le ricette antispreco Che fanno parte Anche della nostra cultura Della tradizione Del nostro paese A casa E come al ristorante Un alimento Che di solito Viene buttato E viene sprecato È il pane Come recuperare il pane Ad esempio Noi qua al ristorante Facciamo E abbiamo in carta Abbiamo messo in carta Una crocchetta di pane È pane vecchio Pane che andrebbe buttato Bagnato In acqua E latte Strizzato E poi condito A modo vostro Ad esempio Noi qui facciamo Crocchette di caccia e pepe Quindi vengono condite Con pepe E pecorino Oppure potete condire Con pomodoro Acciughe Alici Olive La cosa importante È che per due chili di pane Dovete aggiungere Ai condimenti Quattro uova intere Per far sì che il pane Poi Prenda un po' di consistenza Create le vostre crocchette O palline Le passate nel pane Grattugiato E le friggete A 180 gradi In olio di arachidi E avete recuperato Un prodotto Che sarebbe andato buttato Quando andiamo al ristorante Dobbiamo Non avere più vergogna Nel chiedere al ristoratore Di poter portare a casa Quello che abbiamo ordinato E non abbiamo finito Di consumare Portandolo a casa Evitiamo Di buttare Quel cibo E abbattiamo Ancora di più Lo spreco Nei ristoranti italiani Sprecare È un danno Per le nostre tasche Per l'ambiente Per l'economia Non sprecare Quindi recuperare Le eccedenze È un bene per tutti Un bene per le nostre comunità Quindi davvero Ciascuno può fare la sua parte Buongiorno Sono Luisella Pozzani Di Uni Che è l'ente italiano Di normazione Per spiegare però brevemente Chi è Uni E cosa sono le norme tecniche Do subito la parola Ad Alberto Monteverdi Dirigente dell'area Comunicazione Uni Buongiorno Uni è un'associazione privata Senza scopo di lucro Riconosciuta però Sia dallo Stato Che dall'Unione Europea Che da quasi cent'anni Studia e pubblica Le norme Uni Sono dei documenti volontari Non c'è nessun obbligo Di applicarli Che descrivono Come fare bene le cose Fare bene nel senso di Con più qualità Più sicurezza Almeno impatto ambientale possibile Le scrivono ogni anno Circa 6.000 esperti Che vengono dal mondo Dell'impresa Dei servizi E dall'Accademia Ognuno di questi Mette a disposizione Dell'esperienza E della conoscenza Per concentrarla Proprio in questi documenti Che poi servono Alle imprese Per produrre meglio E ai clienti Che siano clienti professionali O anche consumatori Per scegliere meglio I prodotti di loro interesse E spendere meglio I propri soldi Bene Allora oggi parliamo di campeggio Campeggio significa relax Contatto con la natura Una filosofia di vita Sostenibile e responsabile Quindi cerchiamo di capire Perché le norme uni Sono importanti Anche in questo settore Partiamo dalle basi Tende e sacchia pelo Il principio delle norme È garantire Sicurezza e prestazioni Nel caso dell'outdoor Per le tende Ci sono delle norme tecniche Che prima di tutto Dividono in categorie Le tende E a seconda delle prestazioni Ci sono tre livelli Di prestazione Dalla classe 1 Che è quella per usi brevi Saltuari E in condizioni Diciamo ideali Alla classe 3 Che è quella che prevede Un utilizzo estremo E per periodi Prolungati Poi la norma Stabilisce alcuni requisiti Di resistenza Fondamentalmente Dei materiali Quindi i teli E le finestre Resistenza quindi Al taglio All'usura All'acerazione E poi Diciamo Alla resistenza Al fuoco Alla pioggia E al freddo Tra i vari altri requisiti Di sicurezza C'è uno particolare Che è quello che riguarda La chiusura Delle porte Le porte nelle tende Funzionano con una zip E per garantire La perfetta sicurezza Anche per i bambini È previsto Che a porta chiusa La zip sia nel punto Più basso Il cursore deve essere Nel punto più basso Della tende In modo che anche Un bambino piccolo È in grado di fare Il minimo movimento Per aprire e uscire E poi quel cursore Deve essere di colore diverso Dal resto della zip O avere una maniglia Di colore diverso In modo che sia Facile identificare Dov'è collocato Per i sacchi a pelo C'è una norma Uni Che fondamentalmente Fa delle prove Simulando con un manichino La temperatura che raggiunge Un corpo umano Dentro un sacco a pelo Mettendone in una stanza climatica E portandone alle varie temperature In modo da stabilire Per ogni famiglia Tipologia di sacco a pelo La fascia di comfort Di utilizzo Quella limite Quella addirittura di rischio Ecco Oltre a tende E sacchi a pelo È importante anche Disporre di Attrezzature da campeggio Come arredi Per esterno Eccetera Che siano confortevoli Ma soprattutto sicuri Cosa dicono le norme? Le norme dicono Che non si possono Prendere i mobili di casa E portare fuori Ci vogliono dei mobili adatti Che superano dei test Dei test di sicurezza Che una volta montati In uso comune Non diano la possibilità Di subire dei tagli O degli schiacciamenti Così come le parti tubolari Che sono tipiche Di questi mobili Non siano aperte Ci sono delle norme Che garantiscono La stabilità Sia in movimento Sia una volta Che sono posizionati Nella piazzola E poi Numerosi requisiti Di sicurezza Tra i quali Le dimensioni Minime della porta Perché deve essere agevole Entrare e uscire Anche per motivi Di sicurezza La chiusura Diciamo Certa Della porta La chiusura di sicurezza Della porta Soprattutto quando ci si muove Per strada E poi che i letti alti Abbiano delle barriere In modo che non si possa cadere E ci sia scritto Che non sono dati I bambini Che hanno meno Di 6 anni Ok grazie Bene ricordo che Tutte le informazioni Sull'attività di Uni Sono disponibili Sul nostro sito internet All'indirizzo www.uni.com Che è liberamente Accessibile a tutti Ringrazio Alberto Monteverdi Dirigente dell'area Comunicazione di Uni E saluto i telespettatori Arrivederci Una sequenza interminabile Di suoni La voce di uno sconosciuto E improvvisamente Mi ritrovo Nella vita di una persona Che sente il bisogno Di parlare con me Inizia un nuovo viaggio Ad accompagnarmi Sarà la voce Lei che esce Incerta Bassa Quando stiamo male Squillante Quando siamo felici Invece il dolore Dovrebbe essere Urlato Spinto fuori Per levartelo di dosso La felicità Tenuta dentro Custodita Per non lasciarla scappare Ma lei si può Perdonare tutto La voce Sempre lei Questa grande madre Che avvolge Carezza Carezza Protegge E poi di colpo Respinge Ferisce Affascinante signora Dalle mille sfumature Unisce vite Che neppure Si conoscono Ma nel preciso istante In cui si incontrano Si fondono Nasce una nuova storia Sempre e comunque Si sentivo Una certa inquietudine Come una spinta A guardare Al di fuori Di me Nelle notti Insonni Poi Mi sono trovata A parlare Con questo strano Disagio Una mancanza Un bisogno Di un contatto Autentico Con il profondo Umano Miscuglio Di contraddizioni Ambiguità Del non detto Per paura Vergogna Solitudine Di un mondo Sommerso Che non tutti Riescono a far Emergere E non può Essere una colpa Ecco Avvicinandomi A questa solitudine Cercando di accoglierla Ho sentito La fragilità Umana Che è anche La mia La tua Dell'altro Insieme Forse Ne possiamo Fare qualcosa Evitando La deriva La voce Quella voce Che arriva Da chissà dove E che racchiude Le infinite Emozioni Dell'animo umano È la vita Il mondo Di cui facciamo parte Vale la pena Esserci I programmi di Rai3 Riprendono ora A diffusione nazionale Buona visione A presto Alla Grazie a tutti.